Si chiude il 2020, annata sportiva sicuramente da ricordare in negativo per tutte le vicende legate al Covid ed un torneo per la prima volta cristallizzato. In Serie D senza dubbio non è prevalso il merito sportivo, considerato che la stagione 2019-2020 non si è chiusa in modo regolare. Le problematiche della pandemia hanno reso impossibile la chiusura dello scorso campionato, una condizione che senza ombra di dubbio ha penalizzato il Campobasso, lanciatissimo a meno tre punti dal Matelica, con otto giornate ancora da giocare. Detto questo, guardiamo avanti ad un 2021 che si spera possa garantire la regolarità al campionato di quarta serie. Le società, tra sacrifici e impegni economici rilevanti, hanno garantito la prosecuzione del calcio di Serie D, nonostante le mille difficoltà a partire dai mancati introiti del botteghino. Proprio per questo le 166 squadre del torneo interregionale meritano rispetto massimo non solo dal mondo dello sport, ma anche da quello della politica. Società che hanno ricevuto pochissimi incentivi dal governo per far fronte alle spese extra e a tutte le difficoltà del periodo. Ecco perché va in tutti i modi garantita la regolarità della stagione 2020-2021. Ci apprezziamo a vivere il nuovo anno con la speranza che la condizione generale migliori, che possano riprendere i campionati regionali e che ci sia un ritorno graduale del pubblico sugli spalti, la vera essenza dello sport. Il Campobasso si congeda dal 2020 con una marcia di primissimo piano. Nelle 17 gare dell'anno solare una sola sconfitta, 12 vittorie e 4 pareggi. I lupi sono al comando della classifica nel girone F, siamo ancora le prime battute, ma se il buongiorno si vede dal mattino siamo certi che la squadra di Cudini sarà protagonista nel nuovo anno. Il desiderio della società e della piazza Campobassana è quello di tornare nell'ex campionato di Serie C. Un lavoro certosino da parte della società che in particolare nel 2020 si è irrobustita con ingressi importanti. Nuovi capitali utili ad allestire una squadra da primato e guardare al futuro con ambizione e consapevolezza. A tal proposito entro oggi si concretizzerà l'operazione d'ingresso del socio Matt Rizzetta per una quota pari al 30% per azione annunciata, ricordiamo, ad inizio dicembre. Il lavoro di Mario Gesù è merita senza dubbio di trovare risposte sul campo. Proprio il patron dei lupi questa mattina ha voluto salutare i tifosi rosso-blu in vista del nuovo anno. Una lettera intitolata Guardiamo avanti, puntiamo in alto, dove Gesù ha rilanciato ancora una volta le ambizioni del club con la prospettiva di offrire al campo basso una dimensione internazionale come dimostrato dalla chiusura dell'accordo con Italian Football TV, un canale americano che porterà i lupi oltreoceano. Inoltre la possibilità di integrare la quota societaria da parte di Rizzetta che, come si legge dalla lettera, ha già un'opzione per rilevare il 40% delle quote. Un'altra testimonianza dell'impegno e della volontà di crescere su tutti i fronti. 2020 senza dubbio da ricordare per il Vasto Girardi. La squadra del piccolo centro alto molisano ha conquistato prima una salvezza strameritata sul campo, chiusura al decimo posto per la matricola gialloblu nella passata stagione, poi ha trovato conferme nel campionato in corso. Un lavoro importante anche qui della società, la triade, a partire dal presidente di Lucente sino al direttore Crudele e al DS Giorgio Marinucci, Palermo. Inoltre ad inizio novembre il ritorno al Ditella, l'impianto sportivo di Vasto Girardi, una vera e propria perla incastonata a circa 1200 metri di altezza. Uno sforzo importante da parte delle amministrazioni comunali che si sono succedute e della società sportiva. I gialloblu agli ordini di Prosperi torneranno in campo, proprio sul nuovissimo campo sintetico casalingo, contro il Castelfidardo. Si riparte da 13 punti ottenuti con pieno merito, anzi a dirla tutta. Ruggeri e compagni sono in credito, con la fortuna. Situazione in via di aggiornamento da Agnone, le problematiche legate alla positività di diversi elementi del gruppo squadra ancora non sono del tutto risolte. La squadra ha ripreso gli allenamenti con le difficoltà del caso, squadra praticamente dimezzata. Un 2021 che dovrà rappresentare una svolta decisa per i Granata, attualmente all'ultimo posto in classifica. Dopo l'entusiasmante campionato della passata stagione chiuso al settimo posto, le vicende societarie hanno condizionato l'avvio della nuova stagione. Poi l'arrivo della nuova cordata e l'allestimento della Rosa a campionato in corso. Nel mezzo lo stop per il campionato, le problematiche Covid, nei fatti l'Agnonese da fine ottobre è scesa in campo solo una volta nel recupero contro la Vastese. L'obiettivo di Mister Senegaliesi è recuperare quasi tutti gli effettivi per preparare l'importantissima sfida del 6 gennaio contro il Porto Sant'Elpidio e prepararsi a due mesi a tutta, con le 11 gare di campionato in programma e i tre recuperi ancora da stabilire. Grazie. Grazie.